ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono Anna e ci siamo su delle sponsorizzazioni intanto mi scuso se in questo periodo sto facendo pochi video ci ho fatto pochi video però con la scuola verifiche interrogazioni varie e quindi non avevo poco tempo per registrare quindi non sono uscita intanto vi auguro pure buona vigilia di natale domani farò un video speciale di natale e niente il primo a essere sponsorizzato è brex che 725 iscritti e fa video su top challenge scherzi telefonici spinner.io eccetera poi pro ciccio che ha 270 iscritti e fa video su gta 5 fifa 18 minecraft crash real e poi fa live e basta poi franci gamer 88 che ha 213 iscritti e fa video su live su fortnite e minecraft soprattutto si live su minecraft fortnite intanto se sentite delle voci scusate ma mio babbo che sta facendo i compiti cioè sta aiutando mia sorella a fare i compiti quindi sta parlando e urla invece che parlare quindi non ci posso fare niente scusate poi mike 06 milillo che ha 40 iscritti e fa video su fortnite anche lui dragon ball minecraft cioè fa live anche lui fa molte live e clash real e basta cioè eccetera poi di gaming che ha 1422 iscritti che fa video su pokemon fa live clash real youtuber life outlast 2 rise of the tomb rider eccetera poi youtube raffaele raffi che ha 209 iscritti e io non so come chiamare i suoi video perché sono video che non hanno un nome cioè hanno la data di quando la caricati quindi possiamo chiamarli video a caso video divertenti video a caso così poi annatv gmr02 che ha 907 iscritti e fa video su tutorial poi video divertenti sponsorizzazioni eccetera poi ilenia xd che ha 105 iscritti e lei fa soprattutto speed speed paint speed art su fnaf si sono tutti i disegni su fnaf e poi basta spero questo video vi sia piaciuto anche se molto breve e niente lasciate like commentate condividete e iscriviti se non è ancora fatto ciao a tutti ciao